ciao a tutti bentornati sul mio canale benvenuti in questo nuovo video allora procediamo con quanto vi avevo promesso prima di proseguire con la bibbia per principianti ci sono alcune cose da chiarire sulle vostre domande che mi avete fatto e oggi parliamo dell'angelologia ossia degli angeli gli angeli di cui troverete una playlist qua sul canale dove parlo di entità e di angeli ma in particolar modo parliamo di una cosa che a molti forse farà poco piacere cioè del fatto che gli angeli non vanno nei pregati né adorati allora innanzitutto ci viene descritto dalla bibbia che gli angeli hanno un proprio carattere ossia hanno un comportamento al di là dell'impegno o del se volete dell'incarico dato da dio esattamente come quello degli uomini sono creature di dio come ci dice la genesi 1 16 sono invisibili ma hanno il potere di prendere forma umana genesi 19 1 3 hanno vita eterna ovviamente finché dio li mantiene in vita a differenza di noi che l'abbiamo per sempre e non devono sposarsi luca 20 34 36 sono numero rosi daniele 7 10 classificazione degli angeli nell'antico testamento noi abbiamo varie classificazioni degli angeli però molte di queste classificazioni sono più di genere umano che di genere divino nell'antico testamento l'espressione angelo del signore significa spesso che dio stesso che parla in effetti quando mosè che si era messo a fare il pastore dopo a essere fuggito dall egitto si trova a contatto con rovetto ardente e da rovetto dente dice la bibbia parla l'angelo del signore in realtà non è altro che un interfono chiamiamolo così della voce divina quindi spesso significa anche angelo il signore che dio stesso questo fenomeno è chiamato teofania genesi 32 22 30 isaia 63 9 esodo 33 14 gli arcangeli sono teste di angeli cioè sono capi degli angeli in realtà così tradotto uno dei quali è michele giuda 9 apocalisse 12 7 tessalo cinesi 14 16 e forse gabriele forse diciamo è un altro luca 1 19 daniele 8 16 quindi tutti i nomi degli arcangeli che troviamo in giro eccetera non si sa da dove originano da tradizioni da culture da miti da leggende ma non sicuramente dalla bibbia comunque dai testi biblici di qualsiasi genere essi siano cioè di qualsiasi confessione cristiana o giudaica provengano gli angeli letti non si ribellano a dio timoteo 5 21 matteo 25 41 i serafini sono gli angeli primi quelli che hanno la funzione di glorificare dio quelli che hanno il volto rivolto a dio isaia 61 15 i cherubini invece anch'essi fanno parte della schiera più alta della classe più alta degli angeli e non sono i tutti che siamo abituati a vedere con le alettine come ce li mostrano nella iconografia cristiana soprattutto dal medioevo in poi del rinascimento ma sono angeli la cui in cui la bibbia li descrive con le facce di leone uomo bue e aquila leone uomo bue aquila quindi con quattro facce e 6 ali gli angeli secondo marco 8 38 luca 96 sono santi e ma bisogna intendersi cosa intende per santi con riverenza vanno trattati secondo neemia 96 sono potenti salmo 103 20 isaia 37 33 36 sono obbedienti pietro 3 22 matteo 26 53 non bisogna adorare gli angeli o questo ci viene spiegato chiaramente nella bibbia adorare l'angelo è una pratica condannata da dio e anche sbagliato celebrano l'adorazione degli angeli o accendere candele in devozione a loro atto degli apostoli 19 10 22 9 ecco lo sesi 218 anche la visione distorta degli angeli come bambini come abbiamo detto non va bene e gli angeli della nazione in daniele 10 13 20 21 insegna che ci sono angeli buoni e cattivi quindi quello che io ho sempre spiegato sul pirata o nelle nostre lezioni su telegram che gli angeli sant'agostino li vedeva blu e rossi no azzurri e rossi quindi buoni e cattivi gli angeli sono come gli esseri umani hanno un carattere proprio possono essere luce o buio salvo quando sono sotto il comando di dio che devono comportarsi per l'opera di dio ci sono le opere degli angeli gli angeli di dio ci agiscono per ordine di dio genesi 3 24 atti 12 7 23 sono messaggeri di dio danno avvertimenti per esempio matteo 2 13 incoraggiamento atti 27 23 quindi vediamo per esempio la rivelazione no apocalisse 11 ebrei 22 nell'apocalisse vediamo anche l'angelo che più volte nei momenti in cui san giovanni cerca di inginocchiarsi di prostrarsi a lui gli dice no non farlo assolutamente che lui è come noi esseri umani ma deve rivolgersi a gesù ea dio sono aiutanti dei servi di dio in tempi di difficoltà dio può chiedere a alcuni di questi angeli di venirci in soccorso elia viene sostenuto da un angelo in effetti il re 19 5 qua ragazzi oggi arrivano notifiche come non ci fossero domani scusatemi allora dicevamo elia è sostenuto da un angelo re 19 u 5 pietro fu liberato dalla prigionia da un angelo atti 5 18 5 23 lo fu salvato dagli angeli genesis 19 5 17 la madre di sansone ricordate moia sansone e tutti i filistei riceve rivelazione da un angelo giudici 13,25 tutti i credenti hanno angeli al loro servizio se mandati da dio ebrei 1 14 atti 12 15 matteo 18 10 salmo 34 7 c'è dio può mandarci degli angeli in aiuto lo abbiamo visto anche prima attenzione poi che ci sono gli angeli caduti e però entriamo nella demonologia e quindi andremo a vedere cosa intende la bibbia per demonologia per il momento per quello che riguarda l'angeologia abbiamo detto tutto questo è tutto quanto quello che si trova nella bibbia che riguarda gli angeli quindi tutto il resto che voi trovate in rete nei libri eccetera sono fanno parte della tradizione della cultura ma non sono cose dette né da dio né scritte da chi è ispirato da dio poi ovviamente ci sono riflessioni come quelle di sant'agostino di altri santi che hanno avuto le visioni appunto per quello che riguarda gli angeli o altre entità ma ne parleremo in maniera più approfondita quindi questo è quanto riguarda gli angeli gli angeli non vanno adorati non vanno accese candele non vanno dedicate chiese come purtroppo abbiamo fatto assorbendo una cultura pre cristiana all'epoca dei romani c'era il politeismo e quindi così è stato fatto con angeli e santi questa deve essere una cosa chiara chiarissima perché voi potete aprire il vangelo e bibbia di qualsiasi confessione cristiana e troverete le parole come si dice di dio così descritta scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate vi ho dato tutti i riferimenti biblici andate a leggerle ci vediamo il prossimo video iscriviti al canale mettete la e condividete il video sui vostri social alla prossima ciao a tutti da armando ciao